È stata posticipata la settimana prossima la campagna vaccinale anti-covid-19 qui nel comune di Giulianova, campagna che sarebbe dovuta iniziare questa settimana, ma per motivi organizzativi è stata appunto posticipata. È stata scelta anche la struttura dove si effettueranno appunto i vaccini per gli ultraottantenne qui nel comune giuliese ed è la struttura del polifunzionale nel quartiere annunziato. Sì, dunque dal 4 al 7 marzo a Giulianova saranno vaccinati gli ultraottantenni che si sono appunto iscritti in piattaforma. La vaccinazione avverrà presso la sala polifunzionale Pioppi, la macchina organizzativa è in moto, in realtà noi eravamo già pronti per questa settimana, poi l'ASL ci ha chiesto appunto di posticipare e saranno impegnati tantissimi medici, tantissimi volontari e operatori amministrativi. Contiamo di vaccinare circa 600 persone al giorno indicativamente e nel frattempo chi non si è iscritto può ancora farlo fino al 28 febbraio o anche contattando il nostro segretariato sociale. Vice Presidente Calbani, ad oggi sono circa 1.200 i residenti nel comune di Giulianova iscritti sulla piattaforma, voi vi aspettate però numeri che potrebbero aumentare in vista nei prossimi giorni? Esatto, indicativamente gli ultraottantenni dovrebbero essere circa 2.000, per adesso gli iscritti sono 1.140 ma appunto nei prossimi giorni contiamo di avere altre adesioni. A partire da domani, giovedì 25, tutti coloro che si sono iscritti in piattaforma saranno contattati dal comune per l'appuntamento, quindi gli verrà comunicato il giorno e l'ora in cui dovranno fare il vaccino.